Buongiorno, scatto se stacco e chiudo la porta Esatteremo la campagna di Silly Sender First Encounter Ok, pronti e la Hotspot Non leggo neanche la storia La storia va per salvar l'humanità Guarda bene Scatto La storia va per salvar l'humanità La storia va per anche il peggio Per l'humanità Puoi trovare fer Iris Grazie. Molto buono. Grazie. 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 Buono? Ecco. Seconda persona. Anima segreta. In piena esposizione. Anima segreta. Scusalo. Anima segreta. E', oi. CРИTA. A- Yeah? No? No? oh mamma mi confonde ragionamolo eh ancora ah 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 ok ciao vediamo la stagettica di sta testa di menchia percolosità nulla perfetto ah se se ah 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 Sì, è tutto divertente e gioia, fino a qualcuno perdono l'occhio. Ah bello, uscire la pompa se scassi Ho un clear Clear di merda Ah già finito Beh Scomento che al minimo 5 minuti 5.41 Beh, prossimo livello